Il capitano è Cagionani, che secondo me quest'anno rappresenta tutto quello che ho raccontato fino adesso. Cioè, secondo me, l'immagine di quel... rappresenta quello che noi abbiamo scelto quest'anno. Cioè, un giocatore che al di là delle possibilità sia di scelta tecnica, sia di scelte economiche, di tanti esperti ha sognato tutta estante di poter rimanere con noi, di ridossare sta maglia e secondo me la gente si deve un po' rivedere questi valori che lui rappresenta totalmente, senza poi dimenticare l'aspetto tecnico che, chiaro, sarà sicuramente anche un leader tecnico.